Buonasera Liverani, allora una grande vittoria con il Pescara e all'andata aveva detto dopo quel 4-2 dell'Adriatico noi dobbiamo pensare alla salvezza, dopo questa vittoria il Lecce pensa alla sera un'Adriatiretta. Abbiamo fatto un percorso, come dici tu, sono passati un girone e i ragazzi hanno, credo, dimostrato, hanno lavorato e oggi hanno recuperato 12 punti in un girone al Pescara che era costruita sicuramente per obiettivi diversi da noi però poi il campo è bello per questo, il calcio che si può sovvertire anche i pronostici quelli di luglio e agosto e aver preso 12 punti in un girone a questa squadra credo che sia motivo d'orgoglio per i ragazzi. Lei ha detto, come dicono i numeri, che il Lecce ha recuperato tanto rispetto al Pescara io le chiedo, qual è il segreto tecnico di questo Lecce che oggi è detta di tutti insieme con il Brescia gioca il calcio più bello di questo campionato? Abbiamo intrapreso una scelta a luglio con giocatori e con una mentalità che è quella di produrre gioco, provare a giocare a calcio che produce tanto sacrificio e tanto energie perché quando sei tu a costruire sempre è normale che fai più fatica la squadra è stata costruita con determinate caratteristiche tutti i giocatori che credono in quello che fanno hanno un grande entusiasmo tra di loro stanno bene dentro e fuori al campo credo che sia un miss eccezionale e quindi è normale che poi con i risultati quello che tu proponi e quello che tu fai ha un valore altissimo e i ragazzi credono ancora di più in questo. Ne parlavamo anche con il suo presidente qualche istante fa c'era il rischio alla vigilia di questa partita dopo il 7 a 0 con l'Asoli di scendere in campo con grande entusiasmo invece avete affrontato questa partita per quello che abbiamo visto da tribuna con umiltà avete iniziato ad attaccare sin dalle prime battute e avete colpito nel momento migliore credo che una delle cose in cui mi rendono più orgoglioso questo gruppo è stata questa settimana dopo una vittoria del 7 a 0 hanno vissuto dal martedì tutti i giorni come se fosse stata una partita già dimenticata quindi non ho dovuto nemmeno impegnarmi troppo a ricordare la differenza da quella partita e le prossime hanno una grandissima maturità è un gruppo che è veramente maturo sa quello che si sta giocando ci vuole provare con entusiasmo con serenità e come hai detto tu non gli mancherà mai l'umiltà per ogni partita un'ultima cosa io chiedo a Oliverani approfittando di quella che è la sua sincerità e la sua competenza tu chiaramente mi dici non guardi in casa degli altri però ci provo rispetto alla gara di andata dove nel primo mezz'ora ricordo Pescara soprattutto sulla catena di destra vi mise molto in difficoltà poi ci fu l'episodio della tua espulsione rispetto a quel Pescara oggi hai visto un Pescara con problemi più tattici o secondo lei meno gamba meno benzina meno intensità so che non è bello guardare in casa degli altri però sai è una partita diversa come dici tu loro i primi 20-25 minuti hanno surclassato lì a Pescara noi abbiamo fatto fatica con le distanze con Marras e con Mancuso tra le linee però è vero che anche lì poi anche nelle difficoltà poi siamo ripartiti abbiamo trovato le distanze avevamo fatto secondo me un'ottima partita gli episodi poi hanno fatto sì che abbiamo perso credo che hanno cambiato questo modulo non so per quale motivo loro hanno giocato il girone di andata con un 4-3-3 oggi cambiano il girone di ritorno un pochino di più non so se sia solo di gamba o magari qualche giocatore non è più al massimo e poi come tutte le cose il girone di ritorno le squadre hanno una conoscenza un po' più grande dell'individuo giocatore di qualità quindi bisogna trovare delle alternative credo durante l'anno grazie a tutti grazie a tutti